ah ma come stai? io tutto a posto si ma ma dimmi un po' com'è sto mali? spaccavi si io sto bene te l'ho detto eh? eh? ah ma non te sento? si si a scala tutto a posto si si li faccio i compiti ma scialla però eh con Bruno sto bene è simpatico mi anziano un sacco di cose tipo oh lo so lo sapevi Achille era Frocio? si Achille è patroco come? si lo metto all'apparecchio ah ma però non t'accollà eh? ti muovo a casa pure te eh? no non voglio che torni ma che stai a di? si vabbè mi manchi però non è che ah ma non te sento non te sento se ribecciamo eh? si si voglio bene ciao mi madre si accalla la cifra ciao